La nuova Smart è finalmente disponibile anche nelle versioni Brabus. Brabus chi è? Dal 2003 rende ancora più esclusive, eleganti, sportive tutte le Smartine e quindi oggi è disponibile sulla versione Coupé, sulla Ford 2 Cabrio e anche sulla Ford 4 4 Posti. In che cosa consiste la cura degli esperti di Brabus? Brabus partendo dall'esterno, quindi un kit estetico, un design molto più aggressivo, quindi la vettura si riconosce fin dal primo sguardo come una vettura più sportiva, una Smartine più sportiva. Sotto pelle abbiamo un telaio ovviamente in un assetto calibrati sulla potenza che è di 110 cavalli, quindi il 20% in più rispetto ad una Smartine normale. Abbiamo anche un cambio molto più veloce, 40% più veloce rispetto al già veloce, cambio a 7 marce, doppia frizione della nuova generazione di Smart e uno sterzo diretto. Questo perché? Perché riusciamo a mettere a terra nel migliore dei modi tutta la potenza disponibile della Smartine. Cerchi da 16 sull'anteriore e 17 posteriore per la Ford 2 e su Ford 4 sono da 17. Saliamo a bordo, apriamo lo sportello, saliamo a bordo, interni in pelle, volante in pelle, abbiamo il volante multifunzione di serie, l'impianto cool e media, quindi climatizzatore automatico, l'impianto media ovviamente con bluetooth e le connessioni di bordo e anche tramite app la possibilità di avere il navigatore dedicato Smart e poi il pacchetto LED sensor sull'esterno, quindi abbiamo le personalizzazioni e le luci a LED che tanto piacciono agli italiani. La Ford 2 Coupe Brabus, così come le altre, è già disponibile in concessionaria a partire da 19.900 euro, se aggiungiamo 700 euro abbiamo il prezzo di Ford 4 e a 23.600 euro la cabriolet di Ford 2 nella versione Brabus. E per avere il massimo in termini di esclusività e sportività si può ulteriormente personalizzare la Smart Brabus grazie al pacchetto Exclusive.